ecco siete e siamo collegati con il mondo via facebook con il Todrett le luci della notte tra qualche minuto dietro alle mie spalle ci sono 350 atleti che adesso si fanno sentire così diretti nel mondo il Todrett saluta il mondo poi quello che vi dico quando siamo a meno 5 della partenza mettiamo una musica ufficiale vi chiedo in un corpo solo tutti accenderemo assieme le frontali è un segnale di speranza un segnale come dire di vita di sguardo e cavallo sul futuro questi sono gli uomini e le donne del Todrett la prima linea con gente che punta lontano gente che ci crede gente che lì che dice le forze e noi andiamo sul primo piano l'unica donna che è in prima linea si chiama Varelia Carusi e lei l'applaudiamo, applaudiamo tutte le donne al via del Todrett e poi un grazie a tutti i comuni a tutti quelli che sono con voi volontari l'anima e l'essenza di questo viaggio un viaggio che poi tirate a 14 minuti tra qualche minuto avremo due campioni ma di quelli tosti 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 che vanno applauditi avremo pelichino dei Fabiani e già io penso non ci riconosco ma oggi siamo al Todrett quindi loro saranno qui con voi gli intervisti Bocanzi, Chico e Defa quando siete in zona venite qua dinanzi allora io vi lascio con la base musicale la musica che colonna sonora del Todrett non sono mai sto lì bene dietro cosa ha pensato per voi l'idea è sempre quella di avere musiche alte e basse, alte e basse un po' come i colli della vita e anche i colli del Todrett mancano intanto 14 minuti del viaggio per noi sarà un piacere, questo ve lo assicuro accaddevi uno dopo l'altro al traguardo cerchiamo di dare spazio e fiato a tutti se non si vedete vuol dire che siamo anche noi belli lessi come voi però insomma saremo con voi da qui assieme a noi ci saranno 2200 volontari break musicale, poi torniamo chiudete forse gli occhi, sognate, ballate, fate quel che volete poi semplicemente una cosa dovete fare è quella di andare più forti che potete con la testa e con le gambe là c'è l'alte su che vi chiama con la luce lassù e poi si va verso il colpinte break musicale, poi due che rispetto a voi due come voi but I'm gonna have myself for a real good time I feel like I've had the world driving inside out hold it around it helps to see you so don't stop me there don't stop me cause I'm gonna have a real good time I'm gonna have a real good time so I'm gonna go to the sky like a tiger and find all this to ever see I'm gonna have a real good time so I'm gonna have a real good time songa mi sa che mi va bene per un aspetto perché se no lo metto a petale in dosso sono mazzo per tutti allora il saluto ai milci giganti del torretto da Fabiani Pelleghino una cosa solo a voi mi trovano picco e poi vita fate voi ciao Silvano ciao a tutti cosa dire un grande bocca al lupo divertitevi non so non so io se partissi stasera fin dove potrei arrivare forse appena a Valle di Veto un po' più di alto però non troppo più lontano e quindi vi ammiro soprattutto per per quello che fate con così tanta passione quello che stanno facendo i giganti del 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 cor 3 e 30 del del la CIE quindi veramente niente se dire un grande bocca al lupo tanta ammirazione bocca al lupo zio sei per di là non ci siamo visti un momento fa però niente divertiti e poi magari ci vediamo più avanti ciao anche a Iuri bocca al lupo a tutti ciao ciao ok Pelleghino De Fabiani two of the best champions 200 men concerning cross country olympics world champion si io mi indisco a Chico faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti sarà una bellissima esperienza peccato per la pioggia però sarà sarà comunque bellissimo poter correre tra le montagne della nostra valle d'Aosta che tanto ci hanno dato che spero vi regalano bellissime emozioni nei prossimi giorni bocca al lupo allora io vi chiedo solo questo sono un canzone che parte state qui un attimo ragazzi venite qua davanti vi girate una foto assieme io penso che questa è la canzone più giusta per voi per il loro voi che avete la vostra sfida sulle montagne dello Stare loro che puntano i giochi olimpici di Pechino agli uni adanti buon viaggio buon olympiore buon ferito due grandi campioni due campioni eccezionali spieghiamo i giochi olimpici di Pechino dietro all'angolo vedete il si mostro dell'olimpiade best level torno certamente che si questo non è infine fatta di grandi campioni vedo gentilmente quotata guaglita ma quel che più conta è lo spirito di questo evento il fatto di mettersi alla prova di dare il vostro meglio poi quando hai bene quando hai male la ricetta è molto semplice c'era uno vecchio basta divertirsi e poi si validano un po' come i vecchi nostri nonni che passavano i colli con magari le spalle ben cariche ma lo facevano con l'entusiasmo con il sacrificio con quella semplicità che è patrimonio nostro e vostro il tuo tempo che aspetta siete siamo a due minuti del via quasi niente e poi si va guardate se sono l'ina con la reloge si giusto a due minuti del via a due minuti del via e poi si va a due minuti del via 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 altri punti del via Per questo ragazzi, vai! Grazie a tutti! 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 自 Grazie a tutti! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 2, 1, 10! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!